Lorenzo Lazzerini, ultimo arrivato in casa rosso-blu, oggi avevi un'eredità pesante, quella di sostituire il capitano, Lorenzo Fiale. Sì, oggi avevo questo compito in vista della prossima partita col Pietrasanta, meno male con la squadra mi ha dato una mano, sia anche Fiale durante la settimana mi ha dato una mano per ricoprire questo ruolo. Ecco, sei andato molto bene, avevi un po' di timore all'inizio con la palla tra piedi e poi ti sei sciolto piano piano con passare i minuti e hai giocato, secondo me, una bella partita. Ora domenica, sabato c'è il Pietrasanta, c'è un risultato che potrebbe essere importante, poi dopo si va alla finale di Coppa Toscana, come vedi queste due partite? Sì, ora sabato ce lo giochiamo col Pietrasanta, prima di tutto, prima di pensare alla finale di Coppa bisogna pensare subito a Pietrasanta, a fare bene lì e poi dopo andremo mercoledì a Firenze per fare bene anche lì. Così può anche dire, un Ponte del Rese che gioca nel Ponzacco però ha già la maglia rosso-blu stampata addosso. Sì, qui mi ci sono trovato benissimo, mi hanno accolto subito come uno di loro tutta la squadra, anche tutta la gente, tutto lo staff, quindi ringrazierò sempre tutti.